La casa da musica, che è un punto in portoghese, la casa della musica, progettata dallo studio di Rem Kulas, che è un architetto, chi non lo conoscesse, importantissimo, a premio Pritzker nel 2000, insomma le sue architetture sono sempre di forte impatto, così come anche questa, è appunto una sala da concerto della città di Porto, in Portogallo, ed è un'architettura data da un bando, da un concorso internazionale del 1999 su invito, per cui furono invitati tra i migliori architetti della scena internazionale, tra cui Zadid, Raffaele Moneo, Herzog de Meuron, Dominique Perrault e tanti altri, e vinse per l'appunto il progetto dello studio OMA, che ricordo appunto che è Office for Metropolitan Architecture di Rem Kulas, dell'olandese Rem Kulas. E quindi poi dal 99 iniziarono i lavori e l'opera doveva essere conclusa nel 2001, in realtà è stata poi ultimata, inaugurata nel 2005 e per concludere insomma un po' la sintesi di questo edificio, secondo me non è neanche di poca rilevanza, anche il fattore economico, per cui inizialmente la costruzione doveva costare 33 milioni di euro che a fine lavori come al solito insomma lievitano queste cifre ed è arrivato fino a 111 milioni di euro. Adesso analizziamo un po' meglio, lasciamo perdere un po' le polemiche da un punto di vista economico o anche progettuale in base insomma ai punti di vista, comunque vediamo in particolare l'architettura, quello che ci interessa maggiormente. E l'architettura di questa sala da concerto è un'architettura che possiamo già etichettare come uno stile decostruttivista, che è lo stile principalmente che identifica Rem Kulas ovviamente, appunto perché è un enorme blocco di cemento, un cubone sfaccettato, perché non è un cubo a tante facce, come appunto dice il termine, decostruttivista, destrutturato, per cui sempre l'architettura di Rem Kulas sono di forte impatto e hanno questi concetti molto forti, per cui è come, c'è proprio anche una foto nel suo sito che è come se prendesse varie funzioni che deve comporre l'edificio al suo interno per poi essere composte in questa forma finale che è dovuta alle varie funzioni interne e poi ovviamente a tutti i collegamenti e i servizi che devono inserire. E quindi questa grossa superficie che non ha più una facciata principale, non ha una struttura vista, non possiamo identificarla come un'architettura tradizionale di setti murari, un tetto, non ha più niente di questi principi, è ovviamente una nuova architettura, un nuovo concetto di architettura e come al solito appunto le architetture di Rem Kulas non presentano degli elementi tradizionali, ha banalmente anche la forma dei vetri, non è un vetro piatto ma sono dei vetri ondulati e appunto non caratterizzata da un'unica superficie che dalla base fino al tetto è la stessa che è il cemento armato a vista. Ho letto che si rifà il contesto per i materiali, per le viste, non scherziamo insomma non ci vedo niente che si possa rifare al contesto. Infatti anche poi la struttura da punto di vista strutturale intendo è molto complessa, ha questi setti murari di 40 cm che sono proprio strutturali, sia quelli esterni che anche degli altri setti interni e poi un'altra struttura interna anche di travi reticolari metalliche e così via. In realtà volevo raccontarvi anche che l'ho visitata da poco per cui l'avevo lasciata alla fine non, essendo anche con altri, non avevo data grossa importanza, dico vabbè solito edificio per una volta che poi l'ho visitata come queste grosse architetture mi stupiscono una volta che le visiti veramente. Non in quanto appunto si possa vedere anche dalle foto sia una bella architettura, in quanto comunque sia al suo potere iconico di questi tagli, di queste luci, di queste ombre che si creano. L'ho vista poi magari anche un po' di sera con queste enormi vetrate colorate con varie luci che caratterizzavano le varie funzioni all'interno. In un certo modo l'idea di Irkulas è sempre quella di far vedere un po' come funziona un edificio anche dall'esterno, nonostante qui troviamo la maggior parte della superficie opaca, appunto come dicevo questo involucro di cemento che la caratterizza. E comunque ritornando al fatto che visitandola, girandoci intorno, come una scultura, non ha una parte predominante, una facciata migliore o peggiore. E ci giri intorno ogni volta, anche dal punto di vista fotografico che mi piace fare le foto, non hai un'inquadratura migliore o peggiore. Devi girarci e vederla con tutte le sfaccettature proprio caratterizzate da questa architettura che può presentare. E poi è anche interessante che magari nelle foto non si riesce a vedere tanto è il fatto che questo enorme blocco così caduto, posato su questo basamento di cemento, in realtà poi questo basamento è molto morbido, è caratterizzato da delle curve che salgono, scendono delle piccole colline che poi, insomma, è anche interessante come poi viene usato successivamente perché quando ero lì c'erano i ragazzi con lo skateboard che ci giocavano in un certo modo con l'architettura. E questo, insomma, secondo me è una cosa interessante, bella, che probabilmente magari Rem Kulas non neanche ha pensato, che è comunque appunto queste curve così molto morbide che contrastavano alla rigidezza dell'edificio. e questo è un po', insomma, un discorso tutto che ho fatto vedendolo anche io personalmente dall'esterno. Ma in realtà, secondo me, la parte più interessante è proprio l'interno. L'interno che purtroppo non ho visitato, anche perché la scala per accedere proprio all'ingresso è veramente misero, piccolo, non mi invitava, anzi mi metteva soggezione. non essendo invitato all'interno non c'era un qualcosa da vedere, ovviamente io non sono entrato di mia iniziativa, anche perché era tardi, insomma, non so neanche se fosse stato aperto. Comunque, anche piccolo, non era molto invitante, devo dire la verità. Però, insomma, vedendolo sia dall'esterno con queste enormi vetrate, poi ovviamente anche tante altre foto, mi sembra veramente appunto più interessante l'interno che l'esterno, proprio perché caratterizzato da colori, da forme molto, appunto, questo decostruttivismo forse si vede più all'interno che all'esterno. Sì, infatti ho visto foto con queste scale tagliate in maniera strana, con questi colori e luci differenti, con la struttura che a volte si vedono dei pilastri inclinati che passano da un piano all'altro. Ecco, forse, forse appunto è più interessante l'interno che l'esterno, specialmente anche se si guarda, per esempio, una sezione, ecco, le architetture di Kulas sono sempre veramente pazzesche perché difficili anche da pensare e ancora più difficili da realizzare. A proposito, in sezione si vede anche proprio poi come si sviluppa, non c'è un dentro fuori, si sviluppa per otto piani verso l'esterno, ma anche per tre piani interrati e niente, appunto, nella sezione si riesce a vedere appunto le varie funzioni, come c'è questa grande complessità interna, soprattutto anche nel realizzare un'opera del genere e magari io da un punto di vista architettonico ne apprezzo forse un po' di più e comunque caratterizzate da questi grandi tagli, corridoi, scale, tutte un po' strane, sghembe e storte. Per questa architettura penso che abbia detto abbastanza e per quanto riguarda proprio la biografia di Rem Kulas ne avevo parlato tempo fa, ma che vi ripropongo, se qualcuno non l'avesse ascoltato, subito a seguire, vi ripresento il podcast che avevo fatto tempo fa, appunto, incentrato sulla biografia e sulle opere principali di Rem Kulas.